Il Tribunale di Enna ha condannato un uomo della provincia ennese alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della sua ex convivente. L'uomo ha patteggiato la pena e parteciperà a specifici percorsi di recupero disposti dall'ufficio esecuzioni penali. La vicenda risale al 2021 quando una donna della provincia di Enna ha denunciato alla polizia l'ex compagno per maltrattamenti, offese, ingiurie, sofferenze, privazioni e omiliazioni. Dopo la fine della relazione l'uomo avrebbe cercato di riconquistarla ma non essendoci riuscito avrebbe minacciato la donna di pubblicare sui social alcuni video a sfondo sessuale che la ritraevano insieme all'uomo. La donna inoltre nel corso di un controllo dell'auto presso un meccanico avrebbe scoperto che era stato installato a sua insaputa un localizzatore gps collegato a una scheda sim. Subito è scattata da parte della polizia su richiesta della procura della repubblica di Enna la perquisizione nell'abitazione dell'ex compagno della donna dove è stato trovato la confezione di un rilevatore gps e una scheda sim che richiamavano esattamente il dispositivo e la scheda ritrovati sotto l'auto della donna e un applicativo sul telefono dell'uomo attraverso il quale venivano monitorati in tempo reale gli spostamenti della macchina e della sua ex compagna. La polizia di Enna ha deferito l'uomo in procura per stalking e maltrattamenti nei confronti della donna. Qualche giorno più tardi però sempre l'uomo avrebbe continuato a piantonare l'ex compagna nei pressi del suo luogo di lavoro. Così la procura di Enna ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione di un provvedimento cautelare urgente nei confronti dell'uomo del divieto di avvicinamento alla donna. Ora è arrivata la pronuncia del tribunale di Enna che ha condannato l'uomo alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di atti persecutori e maltrattamenti.